Il governo e Task Force a lavoro sulla fase 2. Presto nuova videoconferenza con il gruppo guidato da Vittorio Colau. Obiettivo riaprire alcune attività già entro aprile. Roberto Chinzari. Fare presto, obiettivo numero uno del governo, portare nei conti correnti e nelle tasche dei cittadini i provvedimenti del Cura Italia. Per questo ufficio al lavoro anche nei giorni festivi. Ulteriori interventi sono lo studio nel decreto aprile. Saranno utilizzati almeno 10-11 miliardi di fondi europei svincolati, ma servirà anche più deficit. Intanto si prepara la fase 2. Una ripartenza da attuare con gradualità e senza mettere a rischio la salute. Domani Conte sarà nuovamente collegato in videoconferenza con la Task Force guidata da Vittorio Colau. Si punta a riaprire alcune attività già entro aprile e si lavora su due pilastri. Il protocollo per la sicurezza dei lavoratori e i nuovi modelli organizzativi puntando sul digitale. Attenzione particolare alle fasce più deboli. Prosegue il lavoro diplomatico in vista del vertice dei leader europei. Il 23 aprile il risultato difficile è ottenere gli euro bond. Sulle messe il fondo salva stati, spiega oggi una nota di Palazzo Chigi, smentite le fake news che mettevano a rischio l'unità del paese. Un intervento, si legge, fatto durante una conferenza stampa e non, come è stato erroneamente detto, in un discorso a reti unificate.